Troisi va nuovamente sul pallone, adesso però diventa interessante l'azione per Carcone, tunnel e poi Matrone riesce a impedire un gol che sembrava ormai già fatto. Attenzione a Ceti, spazio per concludere, terzo gol doppietta per Federico Ceti. Ancora un rinvio sbagliato e c'è il destro che mette in seria difficoltà il portiere gentile destro grassato scoccato da Pier Giorgio Marzinotto. Ancora una stuccegliata per Damiano Corpi che ha iniziato un pallone meraviglioso per il suo compagno di squadra Antonio Corpi che possa consentire alla sua squadra di... Ed eccoci appunto, bravissimo, il portiere del San Carlo Batezze.